L'oroscopo è offerto da Centro Revisioni Florio Calanda Buongiorno e benvenuti all'oroscopo di Fiorouge TV Ariete, aprite il cuore a chi vi sta vicino, anche quando la logica non vorrebbe. Sarete sorpresi dalle emozioni che riceverete. Toro, lasciatevi travolgere dalle novità in arrivo. Avrete tanto bisogno di idee libere e regole diverse per lasciarvi andare. Gemelli, cambiate regole e schemi del vostro quotidiano. Approfittatene per non fare le solite cose e lasciarvi andare alle novità. Cancro, credete ad ogni promessa, perché alcune di esse potranno rivelarsi importanti per il vostro futuro. Non siate reticenti. Leone, attenzione a possibili frizioni con le persone che vi stanno vicino, perché parole e gesti potrebbero essere fraintesi e scatenare delle incomprensioni. Vergine, l'ingresso di Mercurio vi regalerà energie nuove che vi aiuteranno a pensare a cose diverse, usando con il vostro destino. Bilancia, non volete affaticarvi troppo, ma preferite un weekend leggero e con intuizioni veloci che vi aiuteranno a non stressarvi. Scorpione, dialogo, dialogo, dialogo. Questa deve essere la vostra parola d'ordine, perché vi aiuterà a sentirvi ancora più speciali. Sagittario, amori e esperienze quotidiane si fanno meno urgenti. Sarete voi a capire quando e come qualcuno vorrà coinvolgervi in qualcosa di speciale. Capricorno, siete pronti a scatenare tutti voi stessi, facendo qualcosa di importante, che vi faccia entrare nei cuori e nei desideri di chi vi sta vicino. Acquario, le vostre idee vi aiuteranno a rendere più leggero un weekend in cui sarà necessario uno sforzo in più per concretizzare le vostre passioni. Pesci, l'immaginazione e le belle maniere vi serviranno ad accontentare chi, più o meno all'improvviso, si farà vivo per delle esigenze. Siate pronti ad accontentarli. Grazie dell'ascolto, ci vediamo all'oroscopo della prossima settimana.